Questa sera abbiamo inaugurato a Ceglie una nuova filiale, l'undicesima della nostra banca, un territorio interessante, importante dal punto di vista economico, molto attrattiva dal punto di vista turistico e devo dire che già dalle prime avvisaglie sicuramente troveremo uno spazio importante per poter operare in questo territorio. Crediamo molto nella necessità, specialmente nelle nostre zone, di avere un rapporto personale con la clientela. Ecco perché uno spazio così grande a Ceglie, oltre 250 metri quadrati, abbiamo una grande voglia di entrare in relazione con la popolazione, con i cittadini di Ceglie e per fare questo abbiamo bisogno appunto di personale e professionale che possa entrare in relazione e spiegare quali sono i servizi offerti dalla banca. Auguri a tutti!